Partite di basket in palazzetti con 5.000 posti a sedere Dalla prossima stagione partite di basket di serie A solo in palazzetti da almeno 5.000 posti Il Palatrento, casa della Diatec ma anche dell'Aquila Basket, con i suoi 4.000 posti deve dunque adeguarsi Il servizio di Danilo Elia Almeno 1.000 posti in più sono quelli che servono al Palatrento per continuare a ospitare le partite di basket di serie A A partire dai play-off della stagione 2017-2018 La federazione pallacanestro ha infatti deciso che le partite della prima serie di campionato si potranno giocare solo in palazzetti con almeno 5.000 posti E il Palatrento fa quota 4.000 Secondo il presidente di Trento, Luigi Longhi, non ci sono i tempi tecnici per adeguarlo entro i play-off I lavori andrebbero effettuati quando non si gioca durante l'estate Impossibile riuscirci per la fine del campionato 2017-2018 L'alternativa sarebbe andare a giocare a Verona Ma considerando che su 16 i palazzetti solo 6 sono in regola Longhi confida in una deroga da parte della federazione L'assessore ai lavori pubblici del comune di Trento, Italo Gilmozzi, è ottimista Esiste già uno studio di fattibilità per inalzare il palazzetto e aggiungere due tribune per complessivi mille posti L'idea è stata condivisa con la provincia e con le società E Trento è l'unica città che si sta muovendo La federazione dovrà riconoscerlo, dice Gilmozzi Servono però 4 o 5 milioni di euro Soldi che il comune non può permettersi da solo Ma la provincia è disposta a intervenire Prematuro invece pensare alla partecipazione di uno sponsor privato E io vago E io vago